Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotes. Oggi ho creato un'altra poesia dal titolo Il mondo che vorrei. Spero che dopo la condividerete su tutti i contatti Whatsapp. E se non siete ancora iscritti al mio canale, digitate Savinotes su Youtube e attivate la campanellina per le notifiche. Riflessioni sulla poesia. Ho creato questa poesia perché il mio desiderio è quello di vedere un mondo migliore. Bello, serio, smagliante, amoroso e colmo di ogni qualità positiva. Un desiderio di un mondo onesto, vero, sincero e colmo di gente passionale e bella dentro sarebbe bellissimo. Darebbe coraggio a chi soffre, alleviando le ferite e con tunno solene ne risalterebbe l'energia interna. Darebbe forza a chi si abbatte per evitare il peggio. Vorrei un mondo raggiante che dia esempio a tutti e sia un emblema di bellezza pura. Ora vi leggo la poesia al punto dal titolo Il mondo che vorrei. Vorrei un mondo felice e migliore che sia fecondo di pace e amore. Vorrei un mondo onesto e sincero che non sia iracondo ma che sia vero. Vorrei un mondo mite e raggiante che sia a seconda della vita splendente. E' questo il mondo che mi rende lieto e sicuro e disinvolto. Sari felice e fiero. Grazie Grazie Grazie